Buongiorno a tutti dall'Avvocato Maria Sabina Lembo del Foro di Potenza, anche questo video lo trovate nella playlist dedicata al corso intensivo di diritto penale parte speciale e ci occupiamo adesso dell'articolo 581 dedicato al delitto di percosse quindi chiunque percuote taluno se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito a querela della persona offesa salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61 numero 11 Oxies con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a euro 309 questo comma è stato così modificato dall'articolo 6,1 della legge numero 113 del 14 agosto 2020 a decorrere dal 24 settembre 2020 il secondo comma invece privede che tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di altro reato bene quindi qual è l'oggetto di questa norma è l'incolumità individuale e quindi in relazione all'elemento soggettivo si richiede che la gente si rappresenti e voglia offendere l'altrui integrità fisica mentre non rientra nell'oggetto del dolo l'intenzione di arrecare un dolore il reato di percosse viene meno ovviamente se la condotta lesiva è scriminata dal fatto di essere stata posta in essere nell'esercizio dello ius corrigendi o nel corso ad esempio di competizioni sportive nel caso dell'esercizio dello ius corrigendi il fatto non costituisce reato perché l'esercizio di mezzi fisici coercitivi e repressivi da parte del genitore nei confronti dei figli minorenni è giustificato dal potere educativo che viene loro riconosciuto però sempre che se ne faccia un uso moderato attenzione nel caso invece delle competizioni sportive la giustificazione si individua nel fatto che vi è il consenso dell'avversario e quindi si considera esercizio legittimo di facoltà che sono conferite dalla legge che riconoscono la licità dell'attività sportiva ovviamente la giurisprudenza si è molto evoluta su questo tema delle percosse però quello che possiamo dire è che non è necessario che appunto la percossa determini una sensazione dolorosa che ad esempio potrebbe anche mancare in alcune particolari situazioni quello che invece è fondamentale è che dalla percossa non derivi alcuna malattia nel corpo o nella mente altrimenti ricorrerà invece il delitto di lesioni personali e quindi Grazie.